Questa mattina miliardi di email che mi state inviando con tutte le vostre Honda Africa Tui Mirko, Mirko, la mia Honda Africa Tui, come tu ben sai Ho preso un chiodo, che devo fare Mirko? Ho preso un chiodo, che devo fare? Non ho l'assistenza, non ho l'assistenza di carattrezzi, Mirko che... Carattrezzi! Eppure mi ricordo di averla fatta, io pago sempre Come devo fare? E' entrato un chiodo Toglilo Toglilo